Ancora una settimana di scioperi nel Regno Unito, stavolta da parte dei giovani medici che metterà ulteriormente in crisi il servizio sanitario britannico. 61.000 medici in formazione o tirocinanti hanno cominciato lo sciopero questo lunedì mattina per le prossime 72 ore. Vogliono un aumento di stipendio del 35%. Le trattative per il rinnovo contrattuale tra i sindacati di categoria e il governo britannico, in particolare il segretario della salute Steve Barclay, sono al momento in fase di stallo.